Ciao a tutti e ben ritrovati. In questo video vi mostro come ricamo una foglia a punto croce greco. Come potete vedere mi sono già portata con il lino a trama sottile sul telaio e ho tracciato con una matita le mie linee guida. Ho disegnato una foglia e al suo interno ho tracciato due linee parallele che saranno appunto le linee guida. Quindi partiamo con portarci con l'ago il filato dal retro del tessuto sul diritto e usciamo nella parte inferiore sinistra. Quindi in questo punto, chiaramente con un filato di colore verde, e utilizzo tre fili di cotone muline. Da questo punto vado a fare un punto lanciato verso la mia destra spostandomi leggermente verso l'alto, quindi mi sposto di due o tre trame al di sopra, in questo modo. Poi da questo punto cosa faccio? Sempre dal retro del lavoro vado ad inserirmi nella parte inferiore destra fuori da questo punto lanciato, così. Quindi il filato resta al di sopra del lago, lago sotto, sfilo, e vado a fare un altro punto lanciato verso la mia sinistra, spostandomi sempre di qualche trama al di sopra. Ora, fatto, diciamo, fatti questi primi due punti che sono la base della fogliolina, inizio ad uscire con l'ago il filato lungo le due linee parallele, quindi nel centro della foglia. E quindi da questo punto mi inserisco nel lato sinistro al di fuori del mio punto, ecco qui, e faccio un punto lanciato verso la mia destra, sempre spostandomi di due o tre trame al di sopra. Ora inserisco, non vado più ad inserire l'ago nella parte esterna, bensì inizio a percorrere le due linee parallele, quindi inserisco con l'ago in questo punto, vedete? Sempre sotto il filato, però lungo le due linee, quindi non più lungo il bordo della fogliolina. mi sposto verso la sinistra e continuo ancora in questo modo, quindi vado ad inserirmi sempre al di sotto del filato, però lungo le due linee parallele. e continuo questa lavorazione alternando entrambi i lati e alla fine, ora non si vede bene, però man mano che andremo avanti con la lavorazione, lavoreremo questa foglia con una fila di punto croce nella parte centrale ed è proprio per questo che prende il nome di punto croce greco se fate fatica ad inserirvi sotto il punto lanciato potete anche inserirvi inizialmente sopra sempre in corrispondenza delle due linee parallele, sfilare e dopodiché andare a passare sotto il punto lanciato in questo modo sia in un verso che nell'altro e grazie e andiamo a ultimare la nostra foglia con l'ultimo punto chiaramente poi andiamo sul retro del tessuto e fissiamo il filato e a questo punto la nostra foglia è ultimata quindi prende il nome appunto di foglia punto croce greco perché nella parte centrale si forma questa sorta di punto croce io ho fatto i punti abbastanza larghi mi sono spostata di tre trame ogni volta che sono andata avanti con la lavorazione quindi se voi volete una foglia un pochino più compatta, più piena basta ridurre il numero delle trame tra un punto e l'altro potete farla ad ogni trame oppure ad ogni due trame in questo caso ripeto io ne ho utilizzate tre è un modo simpatico per poter fare una foglia decorativa nei vostri ricami spero che vi sia piaciuta è comunque di facile esecuzione adatta a tutti vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial vi saluto Grazie a tutti.